Così si sono espressi i partiti dopo il discorso di Ursula von der Leyen al Parlamento europeo. Le formazioni centriste, spina dorsale del sostegno alla Commissione, hanno generalmente apprezzato, concentrandosi sulle sfide in corso come gli effetti della pandemia sui più vulnerabili. La pandemia ha esacerbato le difficoltà e le diseguaglianze di un modello economico ingiusto. I gruppi più vulnerabili sono quelli che hanno sofferto di più e che continuano a soffrire, anziani, bambini, personale sanitario, persone con meno risorse e meno formazione, gli immigrati che anche noi non dimentichiamo e che corrono il rischio di essere capri e spiatori di messaggi populisti e xenofobi. I liberali hanno esortato von der Leyen a fare di più per combattere gli attacchi allo Stato di diritto. Quasi ovunque in Europa vediamo sorgere luoghi in cui viene minacciata la libertà. Questi posti devono essere estinti, eliminati, signora Presidente, prima che il fuoco divampi. Avvertiti delle carenze della politica climatica della Commissione, i verdi hanno chiesto una trasformazione più profonda della società. Ricordo anche che la transizione ecologica non può che essere solidale. La produzione è sostenibile ed equa, costa di più. Dobbiamo quindi trasformare i nostri sistemi fiscali e sociali in modo che ognuno possa permettersi di vivere con dignità. Nel complesso il dibattito è stato privo di scambi infuocati. I deputati sembravano consapevoli del fatto che solo uno spirito cooperativo può affrontare le sfide future.